Suonano le campane a Monte Carotto alle 15 in punto del pomeriggio di domenica. Quel rintocco ricorda la fine della battaglia, terminata esattamente 80 anni fa, alla stessa ora. Una lotta epica, così la definiscono gli storici, che portò alla liberazione dal nazifascismo non solo di Monte Carotto, ma anche di altri comuni della Vallesina. Il conflitto iniziò il 27 luglio del 1944 e terminò proprio il 4 agosto. Durò pochi giorni, ma fece tante vittime e portò sofferenza. Il comune oggi ripercorre quei nove giorni con varie iniziative per stimolare memoria e coscienza. Quello che a noi premeva è partire dalla riscoperta della memoria, che purtroppo per troppo tempo Monte Carotto aveva dimenticato. Le scuole hanno risposto in maniera molto convinta, hanno partecipato anche a un concorso regionale, hanno realizzato anche manualmente delle opere, quindi dei disegni, oltre a delle frasi in ogni punto collegate alla pace. Una battaglia molto sentita in paese, tant'è che in passato qui è stato inaugurato anche il Giardino della Liberazione. A scontrarsi da una parte la brigata Maiella, partigiani abruzzesi e i polacchi, e dall'altra l'esercito nazista. Monte Carotto era un punto strategico da un punto di vista geografico, lo si capisce perché è in una collina che domina e è a cavallo tra la valle del Misa e dell'Esino. La battaglia fu definita una battaglia epica perché comunque un manipolo di volontari, perché erano volontari di pochi uomini, riuscirono a arginare la forza della Wehrmacht. Il 4 agosto il comandante Utili del CIL dichiara ufficialmente con un telegramma la liberazione di Poggio San Marcello, Monte Carotto, Serra dei Conti, Arcevia fino ad Ostravetere, Barbara e quindi tutta la zona. Il Comune inaugura per l'occasione una panchina per la pace con colori sgargianti che simboleggiano l'opposizione a ogni forma di conflitto. La panchina della pace che abbiamo voluto fortemente, che in un momento come questo di guerra, dove la guerra diventa la soluzione dei conflitti, invece noi riteniamo che la diplomazia debba prevalere e quindi la pace possa arrivare in tutte le parti del mondo.